cuori azzurri buonasera ben arrivati a questo nuovo appuntamento con cuore azzurro finalmente ci si vede perché dopo le avventure dell'ultima gara della diciassettesima giornata del campionato di Serie D con quel poco che si è visto al Piola è fino un piacere vedersi di nuovo in faccia e questa sera chi vediamo in faccia è il nostro ospite la firma del Corriere di Novara Paolo De Luca ciao Paolo buongiorno ciao Fabrizio e conosciamo il nuovo innesto il nuovo bomber del tridente ficcantissimo dell'attacco novarese ovvero Vincenzo Alfiero ciao Vincenzo confidenzialmente come ti chiamano già Vinci Enzo Alfio ecco avevo tre possibilità ho speso le due che non c'erano quindi il grande Alfio perché dal cognome deriva il tuo soprannome fantastico vedi a volte queste finte ti lasciano spiazzato ed è bello un attaccante deve sorprendere anche da questo punto di vista Alfio mi permetto di partire subito da te prima ancora di analizzare la partita per farti una domanda di quelle che potresti tenerle come colpo in canna ma secondo me vale la pena farla subito hai fatto una scelta di vita ho letto delle cose parecchio interessanti sul tuo profilo professionale umano e la tua diventa una scelta che guarda molto al futuro ci racconti qualcosa di te in merito anche a questa decisione che ti fa coincidere il mondo del lavoro che si mette in pausa perché prediligi il mondo del calcio 28 anni alla nagrafe sì praticamente nel momento in cui ho ricevuto la chiamata dell'ovara ho pensato a dedicarmi solo a questo perché giusto che sia così sono arrivato in un ambiente una piazza importante ed era giusto che mi dedicassi solo a questo Alfio tu hai guardato le cronache del Milan ultimamente no non hai notato che c'è che c'è che c'è un giocatore però che gioca con quei colori con quella maglia che un analogo di storia un po' ce l'ha con te ci hai pensato qualche volta sì anche perché anche lui è arrivato arrivato molto tardi nel senso è arrivato nel mondo del professionismo a 26 27 anni e da lì è partita un'avventura che fa sognare diciamo che lui è da prendere esempio perché comunque fa capire che nel calcio hai sempre mille possibilità e lui è stato bravo a sfruttarla e ora si ritrova dopo cinque anni a giocare dall'eccellenza la serie a addirittura a te piace sognare a noi novaresi te ne sarai accorto voglio credere piace altrettanto sognare se non addirittura di più Paolo pensi che questo sogno si possa davvero concretizzare un po' presto ancora Fabrizio con tutto l'ottimismo che abbiamo però ci sarà ancora da sudare ne parlavamo d'altronde prima che comunque ci sono squadre che stanno salendo bene in campionato ci sono delle partite ancora da recuperare però il Novara diciamo con questa vittoria sporca difficile nella nebbia contro il Gozzano ha messo davvero pressione a tutti gli avversari se si dovesse ripetere mercoledì col Chieri oltre a fare un bellissimo Natale ci sarebbe veramente una fuga difficile da colmare quello che succederà domani con il Chieri è un risultato che si può pronosticare in una direzione soltanto non perché ci sia questa necessità impellente guardando la classifica di dover fare i tre punti insomma diciamocelo chiaramente se non dovesse succedere ma già tocco ferro non cambierebbe non stravolgerebbe la classifica ma per quello che è ciò che viene definito oggi in una parola molto di moda il mood non può cambiare sicuramente prima della pausa delle vacanze di Natale un mood che prima di andare a guardare quello che si riuscirà a vedere della partita contro Gozzano e scoprirete perché se per caso vi fosse scappato qualche dettaglio è la classifica la classifica della quale come diceva Paolo prima di andare in onda amo guardare le ultime cinque partite delle squadre perché con gli alti e bassi con questi andamenti oscillanti delle varie squadre definiscono veramente quello che il mood e stavo guardando come Novara con i suoi 38 punti e tutte le 17 partite giocate è lì e l'abbiamo detto e lo sappiamo perfettamente alle spalle Chieri sta mollando sta cominciando a perdere perché nelle ultime cinque partite ne ha vinte due pareggiate due persa una a chi bisogna prestare attenzione anche se molto distanti di punti perché ne hanno soltanto 29 con una partita da recuperare è il Varese che come Novara ha vinto quattro partite e ne ha pareggiata una questo è il mood che tengo d'occhio e che credo possa essere una buona maniera di analisi della classifica perché nel lungo periodo abbiamo visto che squadre che sono partite con grandi velleità stanno già segnando il passo e altrettanto delle squadre che in partenza sono sembrate un po' timide invece stanno cambiando la loro marcia tu che hai cambiato maglia Alfio come vedi questo campionato ad oggi alla vigilia della pausa no no ma sono pienamente d'accordo con te nel discorso precedente ci metterai dentro anche la Saramese che la Saramese è una squadra molto importante che anche loro hanno 29 punti con una partita in meno di noi, una partita da recuperare e appunto mercoledì abbiamo questa partita importante dove possiamo dare un segnale molto chiaro alla classifica e speriamo che vada nel migliore dei modi Senti tu hai avuto un'esultanza prima di salutare i tuoi ex compagni di squadra oramai sotto la curva ospite che ha già fatto sognare noi novaresi prima che tu arrivassi, avevi un po' in mente che questa esultanza arrivasse e rimbalzasse fino alla nostra città? Ma fino a così tanto no perché comunque nel momento in cui ho finito la partita già alcuni tifosi del Novara mi hanno scritto dicendomi che era già il primo gol novarese però io con la partita lì sapevo che era l'ultima partita col bravo, ho giocato alla morte ho fatto un gol importante per la mia squadra è un risultato perché comunque dall'inizio partita non avevo ricevuto molti complimenti da parte dei tifosi del Dertona col fatto che sapevano che mi sarei trasferito a Novara I tuoi precedenti allenatori hanno parlato molto bene di te, abbiamo raccolto un po' di pensieri che hanno voluto lasciare ogni volta che hanno avuto occasione di parlare della tua professionalità e delle tue capacità tu venendo a Novara perdi forse un pochettino mi permetto di dire quello che è l'essere il punto di riferimento di una squadra ti cali in una realtà dove ci sono altre, passami la parola, prime donne altri attori da prima pagina, anche questo l'avrai messo in conto come ti sei trovato all'approccio con i tuoi nuovi compagni di squadra? No ma mi sono trovato molto bene perché per fortuna ho trovato un gruppo molto forte innanzitutto e molto coeso, mi hanno inserito subito benissimo a partire da Gonzales, Futai per quanto riguarda il discorso precedente sono d'accordo con quello che hai detto e penso che sia un processo di maturità che dovevo ancora affrontare per rendermi completo sia come giocatore dentro il campo che fuori dal campo avevo bisogno appunto di questa situazione qua Con una quota di grossa curiosità come vedi nei tuoi confronti mi sono permesso di farti subito delle domande che mi rendo conto un certo peso lo possono avere e mi fa piacere di vedere come sei pronto nonostante non ci siamo messi d'accordo minimamente su nulla prima di andare in onda ad avere la risposta a quello che può essere l'interrogativo che ti pone chi deve conoscerti, chi impara ad approcciarti anche se guardando dalla tribuna Paolo tu che cosa vorresti sapere da quella che è l'esperienza d'approccio al Novara di Alfio? Ma no, gli volevo chiedere come era stato appunto l'impatto con la realtà Novara e con la città anche se è pochi giorni, se hai già avuto modo di avere qualche contatto con i tifosi storici eccetera Sì sì, sono rimasto molto contento e impressionato dal fatto di come questa città viva il calcio perché comunque nonostante la categoria non hanno perso l'entusiasmo e appunto nel momento in cui ho avuto la possibilità che il Novara mi ha chiamato subito hanno iniziato a arrivare i messaggi da parte dei tifosi dicendomi vieni a Novara, che aspettiamo e sono cose che comunque sono importanti per i giocatori Sì, avevano già un bomber però ne volevano un altro quindi i tifosi del Novara sono insaziabili Sì, giustamente non vedrò l'ora di andare via da questa categoria di categoria e di andare nel professionismo che è quello che merito Vedi, vedi che scavando viene fuori come lui è l'uomo del sogno, l'uomo dei sogni e questa è una cosa bella tra l'altro sei arrivato a Novara in un momento che climaticamente ha già dato il meglio di sé insomma ti è toccato spalare la neve cercare di muovere l'aria per far alzare le coltri di nebbia che coprivano il Piola però aveva avuto anche un momento felice la cena degli auguri di Natale è stato un momento festoso un momento che ha permesso a addetti ai lavori a voi giocatori, a dirigenza di ritrovarsi intorno a un tavolo molto ampio quindi più tavoli diciamo con questo distanziamento che ahimè bisogna continuare a rispettare però è stata una serata molto riuscita perché veramente io ho colto, poi tu puoi correggermi e se Paolo ha colto qualche cosa di diverso è naturalmente libero di esprimerlo che non c'è davvero differenza tra chi è a Novara come te da pochi giorni e chi è arrivato all'inizio di questa avventura, di questa serie di sembrate veramente un gruppo che ha finito le vacanze estive e adesso si trova per fare il suo lavoro ti ricordi da quanto tempo siete amiconi? in quanti vi conoscevate prima di essere qua a Novara? tre di voi? ma io non conoscevo in particolare nessuno nessuno? no 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 li conoscevo ovviamente di nome per gli giocatori però personalmente non conoscevo nessuno e appunto ho percepito un entusiasmo a quella cena non solo a livello di gruppo, di squadra ma proprio di dirigenza è stato veramente bello ancora di più si è dimostrato il fatto che siamo un gruppo veramente coeso e questo qui secondo me alla fine ce lo ritroviamo sia in campo che poi nella classifica Paolo tu un commento sulla partita prima di andare a vedere gli highlights di questa gara che si è conclusa questo come è stato definito secondo me in maniera anche abbastanza simpatica il mini derby per un Novara che in questa categoria non avrebbe voluto esserci e un Gozzano che invece ha scelto di esserci un Gozzano che ha un mister che è stato di un'onestà e di una signorilità non comune davvero al di là di ogni categoria nel fare l'analisi della partita nel prodigarsi anche in complimenti verso il Novara in maniera molto aperta al suo collega Marchionni naturalmente un po' tutta la situazione e con una squadra che a proposito di classifiche e statistiche che guardavamo prima nonostante il gol subito continua ad essere la miglior difesa del campionato sono dieci soltanto i gol che hanno subito quindi una squadra che si presentava con delle enormi difficoltà per chi doveva mettere in crisi questa difesa rispetto ad altre gare ad altre partite Il mister Schettino che citavi tu lo conosciamo già da tempo perché è un allenatore che è allenato a Varallo Pombia anche qualche anno fa in eccellenza nel giovanile quindi sei fatto le ossa e hai anche idee abbastanza innovative mi è piaciuta la sua onestà nel giudicare la partita anche perché è stato un merito suo che il Gozzano ha messo in grossa difficoltà il Novara soprattutto nel primo tempo per questa ragione sono tre punti pesantissimi come lo sono stati quelli con la Vagnese sempre in condizioni climatiche avverse questi punti davvero potrebbero pesare fra qualche mese nell'economia del campionato perché ottenuti proprio con la forza di volontà e la grinta nonostante situazioni anche difficili come i due rigori sbagliati sia con la Lavagnese sia con il Gozzano Senti io direi a questo punto davvero di concederci questa curiosità di vedere dalle immagini dalle telecamere che cosa si riesce a sintetizzare di quella che è stata la partita questo mini derby contro il Gozzano in quelli che vengono definiti e quindi gli highlights è ricordato da tanti per l'atmosfera particolare vissuta un vedo non vedo da vera leggenda è il Gozzano rendersi pericoloso per primo pallone in aria per Menabò che trova l'ottima risposta di Axel Desjardins a negarli la gioia del gol occasione che sveglia subito gli azzurri cross dalla sinistra i Vutai sponda di Alfiero per González che conclude però alto sopra la traversa tante occasioni per le due contendenti per il Gozzano il tiro di Gemelli e l'ottima parata di Desjardins per il Novara l'attimo vincente verso ad Alfiero da ottima posizione che trova la chiusura in angolo al minuto 33 episodio contestato ai danni del Novara calcio di rigore decretato ma che vede Cominetti spedire il pallone sulla traversa scampato pericolo per González e compagni grazie a tutti La ripresa si apre con ancora più visibilità bassa e ridotta per via di una soffocante nebbia ma che vede Vagè superarsi su un tiro a giro di Vutai. Al minuto 51 serpentino di Paglino, pallone deviato in angolo. Dalla bandierina perfetto cross di Daribi e colpo di testa vincente di Benassi. Un gol prezioso che rompe il ghiaccio in una partita a dir poco difficile. Novara che mantiene le redini del gioco e del possesso palla e conquista tre punti fondamentali che lo proiettano a quota 38, sempre saldo al comando del girone A della Serie D. No, credo che se la squadra riesce a vincere queste partite in questo modo, credo che una grande squadra riesce a fare questo. Anche se siamo stati fortunati perché comunque loro hanno svegliato il rigore, hanno avuto occasioni importanti, però se riesci a vincere queste partite in questo modo dimostri di essere maturo, di voler centrare l'obiettivo. Le difficoltà sono state tante, perché dall'inizio loro riuscivano ad attaccarci le spalle, quindi ci allungavano e magari non siamo stati bravi anche a far giocare i tre davanti. Eravamo troppo frenetici, non riusciamo a creare quelle situazioni che magari ci potessero permettere di metterli in difficoltà. Secondo me poi dal ventesimo, il primo tempo, fino al trentacinquesimo, quarantesimo, sono stati bravi, perché riuscivamo a trovare Pablo tra le linee e abbiamo cercato di fare qualcosa di importante. Abbiamo avuto anche un'occasione con un alfiero, molto importante, però purtroppo non siamo riusciti a far colpo. Secondo tempo invece, secondo me, la squadra ha fatto molto meglio. Abbiamo iniziato a prendere campo, iniziato a far salire il baricentro, abbiamo rischiato poco, però abbiamo iniziato a fare magari quel tipo di gioco che poi conosciamo. Non siamo stati bravi, forse imprecisi, però credo che nel complesso la squadra nel secondo tempo mi sia piaciuta. L'ospite? Beh, sicuramente una vittoria a tutta grinta e cuore. Nel secondo tempo sei cresciuto tantissimo, con delle serpentine, ormai ci hai abituato. Poi io ti seguivo nel settore giovanile e quello che facevi nel settore giovanile lo stai facendo in prima squadra. Sì, buonasera a tutti intanto. Sì, una vittoria sofferta, perché comunque l'ora era una buona squadra. Abbiamo fatto quello che in settimana abbiamo provato e poi è arrivato il gol, che secondo me ci siamo meritati. Vittoria importante, anche poi in vista della vittoria del giro. Cosa vuol dire che c'è un esterno di centrocampo più offensivo che difensivo? No, no, concordo, anche perché inizialmente io gioco, il mio ruolo è attaccante esterno alto, giustamente. E sto imparando a fare il terzino da quinto, perché bisogna anche fare la fase difensiva, però per adesso cerchiamo di migliorare. Dai, vabbè, insieme alle immagini che comunque ci hanno regalato qualche cosa in più, ma voi in campo come la vedevate questa partita? Proprio visivamente? Non era facile, infatti, come diceva, è stata una partita importante perché comunque il clima non era dei migliori e questi tre punti ci ritroveremo poi più avanti in classifica. Lo dicevamo già la puntata scorsa, qui a Cuore Azzurro, che i tre punti conquistati contro la Lavagnese, anche se non estremamente spettacolari, hanno messo in evidenza innanzitutto l'ottimo clima che c'è tra di voi, il vostro spogliatoio. E sarebbero ritornati molto utili nel conteggio finale di questa classifica dove il Novara sta prendendo il largo. Abbiamo sentito anche le impressioni di uno dei protagonisti, uno di quelli che se avesse causato il rigore avrebbe fatto arrabbiare un pochettino tutti. Perché quando c'è stata l'azione da rigore, il sospetto dalla tribuna, che non vedeva niente di quello che succedeva, trovandosi su quella fascia il fallo, qualcuno insinuava L'avrà mica fatto di nuovo fallino, invece no. Invece di nuovo Desjardins ha intuito la traiettoria del pallone, pallone che si è stampato sulla traversa, però ha dimostrato che l'analisi che viene fatta fare ai portieri dei rigori e di studiare gli avversari che potrebbero calciare un rigore, produce un effetto interessante, devo dire, perché finora uno l'ha parato, uno ha intuito la traiettoria e il pallone è andato a stamparsi sulla traversa. Quindi complimenti anche a Desjardins, vero protagonista. La difesa, abbiamo un attaccante, ma la difesa mi sembra dare delle garanzie di solidità, caro Paolo, molto interessanti e a proposito di Mood, costantemente in crescita. Dopo un inizio un po' difficoltoso, chiaramente dettato dal fatto che i giocatori non hanno potuto fare la preparazione, non hanno potuto studiare i meccanismi che sono importantissimi in difesa. È cresciuta molto, sui calci piazzati soprattutto, che erano un po' il tallone d'Achille, adesso i difensori riescono a far male sui calci piazzati in attacco ed è un valore aggiunto molto importante. Difesa si parla anche di fase difensiva, come voi calciatori sapete bene, quindi si parte dall'attacco in giù. Quindi volevo chiedere anche a Vincenzo se Mr. Marchionni, anche con voi, parla di fase difensiva. Quali movimenti dovete andare a fare quando dovete difendere? Sì, noi attaccanti siamo i primi difensori. Ovviamente per rendere la vita un po' più facile i difensori e anche nei attaccanti ci dobbiamo sacrificare. Per quanto riguarda il discorso che parlavamo prima, appunto ho trovato uno staff molto preparato. Se il portiere è già il secondo rigore che intuisce, perché c'è uno studio dietro, sia il mister che il preparatore dei portieri si mettono lì e guardano i possibili tiratori della squadra avversaria e da lì li studiano insieme. Quindi c'è un lavoro dietro, un lavoro di campo, un lavoro di studio e computer, che poi alla fine sono cose importanti, anche i calci piazzati, siamo sempre lì che guardiamo i video, perché in partite, in questa categoria soprattutto dove le partite sono equilibrate, un calcio piazzato a favore o sfavore può decidere una partita. Infatti in avvio di stagione, come stavamo dicendo, abbiamo avuto delle difficoltà piuttosto importanti, partendo da presupposti, leggi, palle inattive, che hanno creato non poche difficoltà. Un problema superato, perché se un problema c'è e diventa un'occasione, ti aiuta a crescere, a consolidare una squadra. Una squadra che a questo punto è quasi pronta a farsi davvero gli auguri di un buon Natale, perché tra poco sarà pausa dopo la gara contro il Chieri. C'è una gara nella gara magari a chi riesce a toccare di più il cuore dei tifosi dal momento che è partito l'e-commerce. Se da dietro le telecamere mi dicono la maglia più venduta, qual è quest'anno? Quella di Butai, mi dicono, quella di Dardan Butai. Poi la seconda è quella di Gonzales, me lo dicono in tempo reale, non abbiamo neanche il gobbo, tanto per cambiare Paolo Esposito che mi dà i dati in tempo reale. Ma io voglio credere che presto, perché spesso fare gol significa avere un impatto molto forte sull'immagine e sul desiderio di portare addosso quella maglia, io voglio credere che la tua diventi una maglia importante. La scelta del numero, com'è stata? La scelta del numero è quello che hai trovato. Sì, perché per il fatto che erano già quasi tutti occupati, mi hanno dato a disposizione quattro numeri e l'ho scelto uno, ma non era una cosa così importante, sono sincero. E tutto il resto che conta di più. Mi togli una curiosità, il tuo vero lavoro, ho sentito parlare di componentistica elettronica aerospaziale, cioè è vero questa cosa? Sì, sì, è vero. Ho sempre lavorato, è nove anni che lavoravo in quell'azienda lì, facevo il primo turno dalle 6 alle 14, uscivo, andavo direttamente al campo alle 15. Beh, questa cosa si diceva, ma secondo me bisognerà dirlo sempre, il lavoro nobilita. No, certo. Ti ha forgiato sicuramente, anche dal punto di vista caratteriale. Sì, mi ha fatto crescere tanto e appunto ci tengo, come ho già detto in un'intervista, a ringraziarli perché dopo un periodo di pandemia, di Covid, non è semplice che un'azienda abbia questa possibilità qua. Sono contento che me l'abbia data, ora sta a me sfruttarla e farò di tutto per poter dare una mano, dare un contributo alla squadra e ai miei compagni. Paolo, che devo dirti, a me fa già un sacco di simpatia, cioè in due partite ha fatto subito un gol, esordio gol, questo va detto, esordio gol e la partita dopo eravano già pronti, in quel caso si sarebbe visto da subito, ma invece hai sparato un po' fuori misura. Sì, dovevo sfruttare meglio quell'occasione lì, nel senso che con lo stop mi è rimasta un po' sotto, quindi non sono riuscito a calciare come volevo. Stavo sbilanciato anche. Stavo sbilanciato, sì, però se avessi fatto lo stop perfetto sarei riuscito a tirare prima che arrivasse il difensore. Vedi che meraviglia, l'analisi della situazione sarà l'occasione la prossima volta per essere impeccabili. Bello questo spirito che sta animando, questa capacità di crescita, crescita che pur essendo qua da poco tempo, avrai capito, è ancora possibile, io non credo che questo Novara sia al 100% delle sue possibilità. Magari non sulle prestazioni dei singoli, ma per amalgama di squadra, non fosse ultimo, proprio anche il ruolo che rivesti tu, questo tridente ha sicuramente bisogno ancora di macinare minuti di gioco e soprattutto grandi quantità di allenamento. Sì, sì, dobbiamo ancora imparare a conoscerci bene, ovviamente io sono qua da una decina di giorni, però ho trovato un gruppo forte, quindi sono sicuro che lavorando giorno dopo giorno riusciremo a trovare quella coesione dentro il campo, perché comunque oltre a me sono arrivati altri elementi, Rosa e Di Munno, che anche lui nell'ultima partita ha giocato tutti e due la partitola, tisolare, e quindi dobbiamo imparare a conoscerci tutti quanti insieme, sono sicuro che giornata dopo giornata andrà sempre meglio. Paolo, cosa ti aspetti dalla gara contro il Chieri prima di questa pausa? Io la definisco bizzarra, perché non riesco a far pace con questa cosa, perché interrompere il campionato con una partita del girone di andata ancora da fare? Sarà che sono un po' maniacalmente precisino, però sta cosa mi inquieta un pochino. Le festività anche di Natale e per una serie di... Boxing Day, Boxing Day, Boxing Day si poteva fare. In serie di magari è più giustificabile questa cosa del periodo natalizzo. Cosa mi aspetto dalla gara di mercoledì? Mi aspetto una grande gara da parte vostra, del Novara, dal primo minuto magari per mettere pressione a un avversario che comunque non molla mai. Anche nell'ultima partita sabato il Chieri è andato di svantaggio con la Lavagnese ed è riuscito a riacciuffare il pareggio agli ultimi minuti. Quindi bisogna entrare in campo decisi e cercare di mettere al più presto, cercare di mettere al più presto la partita sui binari della tranquillità e poi gestirla in modo come il Novara sabato. Ma nella classifica Cannonieri poi il conteggio il tuo sarà la somma alla fine, tra quello che hai fatto fino ad oggi con un'altra maglia e i tantissimi, molti, più gol che ancora devi fare con la nuova maglia azzurra, giusto? Sì, certo. Quanti potresti farne quei di 15, 12... Ma io non dico mai il numero esatto. Neanch'io. Scendo tutte le domeniche per far gol e quindi spero di far gol tutte le domeniche. Per dare il massimo. Io credo che anche con i tuoi centimetri in fisicità Novara stia mettendo parecchio. Abbiamo parlato prima della difesa, mi sembra che con i centimetri di Bergamelli, con la spinta di Benassi che ha segnato! L'ha fatto lui il gol! È salito su il cielo! Ma per sapere... Veramente! Guarda, è stata pazzesca questa... Sua incornata io poi l'ho rivista appunto grazie all'immagine, altrimenti sarebbe stato tutto un racconto di fantasia. Si vede bene le fotografie. Esatto. Uno stacco pregevole, non è il primo gol che Benassi mette a segno e Franca Moabeng, insomma uno che lì di dietro garantisce una massa di non poco conto. I due laterali corrono, macinano chilometri e scavano solchi dentro le fasce del Piola, che è anche quella in trasferta, però il Piola con più snellezza anche per le dimensioni del campo che permette sicuramente tanto di più rispetto ai campi da trasferta che ahimè un pochino soffriamo, ma il mal di trasferta l'abbiamo già risolto. Che regalo vuoi per Natale? Eh, che regalo voglio? Voglio vincere mercoledì la partita, così passiamo tutti quanti un bel Natale e allunghiamo appunto dal Chieri che è una delle squadre che ci sta inseguendo. Paolo tu che regalo vuoi per Natale? Voglio vincere la partita anche io. Io voglio la tua maglietta. Il marketing se la ride, perché poi è la cosa che si chiede tutte le volte, lo vedi? Questa maglia verso la quale c'è davvero un discorso di amore, di grande affezione, approfitto per ricordarne, l'e-commerce è sempre in corso, certo non si chiude con Natale, per cui se non si è fatto in tempo, come nel mio caso, a comprarsi una maglietta, possiamo farlo recuperando poi nei giorni a seguire, perché saranno sempre a disposizione, ma non solo le magliette, anche tutti gli altri prodotti che fanno parte di quel merchandising Novara Football Club che è bellissimo, come il logo che spicca sulla tuta d'ordinanza che puntualmente Alfio ha portato qui da noi questa sera, insieme alla sua simpatia e sicuramente a Novara, insieme alla sua professionalità che tale da oggi diventa, anzi da qualche decina di giorni è diventata. Ti facciamo il migliore e più grosso in bocca al lupo davvero. Grazie mille, arriva al lupo. Paolo, io ti ringrazio della tua competente presenza, le presenze sarebbe al singolare presenza, leggo sempre con grande interesse i pezzi che mette, mi piacciono molto le fotografie a piena pagina che il Corriere dedica ai giocatori, la trovo un'innovazione molto interessante. Buon Natale a tutti, ne approfittiamo per fargli auguri. Direi che il Buon Natale è detto, io sono molto felice perché so già che regalo riceverò alla fine della prossima partita, quindi più gioia di questa non so quale si possa avere se non augurarci di portare a casa gli altri tre punti. Siamo campioni d'inverno? Non so, possiamo dirlo, ormai abbiamo in franto tutti i tabù, salutate la capolista, ormai va neanche quello, non c'è più niente che ci frena, deve essere così sempre. Manca un punto penso per... Matematico, ma veramente sempre i puntini sulle i, neanche prima di Natale riesce a farmi un piccolo regarito. Per quello che dicevi tu, c'è la partita del Dertona che è l'ultima giornata di campionato. Esattamente. Giornata d'andata, quella... Va bene, staremo con questo patto. Tra l'altro voi rompete le righe e poi vi ritrovate prima dell'ultimo dell'anno? No, ritroviamo il 28, 28 sera, poi il 29 abbiamo allenamento. Quando ci rivedremo sarà l'anno nuovo e sarà concluso il girone d'andata, perché ci rivedremo nella post-gara contro il Dertona. La gara sarà il 9 di gennaio, noi ci ritroveremo qui a Cuore Azzurro. Grazie davvero a tutti, per ogni cosa mettetevi in contatto con la redazione, non ci stiamo. Ragazzi, buon Natale, ciao!